chiamiamolo batti becco o meglio piccola lite ieri 4 aprile 2021 giorno di pasqua tra la bella brava e simpatica barbara d'urso contro il buon paolo brosio il collegamento il buon paolo infatti avrebbe parlato della sua situazione per quanto riguarda il covid 19 il coronavirus la sua esperienza raccontando della sua situazione di vita contro il maledetto virus in questione ed ecco che parlava proprio di cure delle sue cure e via di seguito ma barbara d'urso non c'è stata e ha deciso di andare a chiudere il microfono del buon paolo brosio perché a suo dire solamente i medici possono eventualmente fornire terapie adeguate per quanto riguarda il curare le patologie che si vengono a verificare quindi per esempio covid e altre patologie però se brosi invece stava fornendo diciamo così i suoi rimedi no quelli che sono state chiamiamole le sue situazioni di salute no e quindi parlando proprio delle eventuali cure che ha dovuto affrontare quando purtroppo è stato interrotto quando purtroppo si è verificato diciamo semplicare interruzione proprio a domenica live infatti pensate che bassetti si la che era l'esperto di copi 19 medico si sarebbe arrabbiato con brosio in quanto non si doveva in qualche maniera permettere di dare degli eventuali consigli medici soltanto dei medici possono eventualmente parlare parere diciamo così concorde con quello di barbara tusso vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video insomma batti becco chiamatelo come caspita volete voi lite batti becco insomma sensazioni di chiamiamola malessere tra proprio barbara tusso e il buon paolo brosio ieri 4 aprile 2021 giorno di pasqua ciao a tutti video termine acqua al prossimo video l'antro narrato italiano